ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario leader energy informazioni commerciali titolare agrolavo spa concessionario agrolavo spa confezioni leader energy tannica 25 kg formulazione 1 kg uguale vit pp rumino protetta 10.000 mg colina 10.000 mg 1,2 propandiolo glicole propilenico sorbitolo acido propionico componenti sciroppo di glucosio estratto di malto cloruro di sodio zucchero saccarosio aromi indicazioni il leader energy a un mangime complementare liquido energizzante rappresenta un ottimo supplemento nutrizionale in particolare per gli animali ad elevate produzioni blappe bufale in quanto aiuta a prevenire le gravi patologie dismetaboliche che caratterizzano in periodo preparto e post parto chetosi e steatosi epatica legate a deficit energetico ha inoltre indicato per bovini all'ingrasso vitelli agnelli capretti suini pollame il leader energy contrasta i sintomi di tali sindromi aumenta la glicemia stimola l'appetito regola il sistema neuro ormonale implicato nei processi metabolici stimola l'attività ruminal e la popolazione endogena benefica ruminal ed intestinale azione antili politica con diminuzione dei neffa uguale acidi grassi non esterificati dei corpi chetonici nei fluidi corporei acido aceto acetico acido beta idrosibutirico acetone di trigliceridi a livello epatico migliora la sintesi di lipoproteine e l'utilizzo metabolico dei grassi ne risulta una maggiore efficienza produttiva tenuta della curva dilattazione e ridotto calo corporeo e riproduttiva fertilità inoltre promuove la risposta immunitaria con riduzione del rischio di malattie infettive mastiti patologie codali ibr bvd bhv 4 pi 3 eccetera ed azione antistress diminuzione delle catecolamine e dei corticosteroidi endogeni gli effetti benefici di leader energy sono il risultato dell'apposita formulazione acido nicotinico ad azione antichetonica ed antili politica colina in forma micro incapsulata sostanza lipotropa previene l'accumulo dei grassi nel fegato e favorisce la mobilizzazione dei grassi da tale parenchima estratto di malto apporta zuccheri solubili ad elevata velocità di fermentazione e ad altissimo rendimento energetico fornisce energia senza togliere fluidi all'organismo glicole propilenico attività gluconeogenetica glucosio esorbitolo iperglicemizzanti peptidi attivi regolatori neuro ormonali cloruro di sodio aumenta l'appetibilità soprattutto nei ruminanti posologia somministrare direttamente per via orale bovine da latte bufale 100 300 g per capo al giorno per almeno 5 7 giorni vitelloni e vitelli a carne bianca in finissaggio 100 g per capo al giorno agnelli e capretti 30 50 g per capo al giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato